Con questo nuovo aggiornamento l'Epic Games ha regalato apparentemente questa skin e sembrerebbe appunto che forse rimborsandola potremmo avere dei Vubax gratis Allora ragazzi praticamente questa qui non era proprio una skin gratis perché sembrava che appunto questa skin venisse regalata a tutti e invece Fortnite ha fatto un bellissimo troll e infatti semplicemente era per dire che la skin era stata cambiata e appunto avevi l'opzione di rimborsarla ma c'è una cosa molto interessante ovvero c'era scritto che avremmo ricevuto un biglietto di rimborso gratis quindi andiamo qua a vedere andando nelle impostazioni effettivamente andate qui e fate su e inoltre una richiesta ragazzi trovate qua appunto Jules da spiaggia rimborso gratis quindi andate qui ragazzi cliccate questo fate magari acquisto involontario e appunto credete appunto di inviare una richiesta di reso appena lo farete però ragazzi se avete la skin vi arriveranno 1200 V-Bucks se non avete la skin vi apparirà appunto ragazzi la richiesta di errore like e iscrizione per altri video del genere